I genitori ancora sul piede di guerra dicono assolutamente no a questa ipotesi e sorge un dubbio. Dal punto di vista pediatrico ci sono delle ripercussioni per i bambini che frequentano la scuola nelle ore pomeridiane, quindi dalle 14.30 alle 20.30 anziché normalmente la mattina? Dal mio punto di vista sì, dal mio punto di vista sì. Secondo me vengono alterati tutti i bioritmi del bambino, cioè dal punto di vista anche scientificamente provato che sono dei bioritmi giornalieri, per cui questo sicuramente inciderà profondamente anche sul problema dei bambini non solo emotivo ma anche caratteriale, anche di relazione. Ricordiamoci, fra altre cose so che mi avete anticipato che le mamme volevano il mio giudizio da pediatra. Sì, sono convinto di sì. Allora tre sono le cose più importanti che mi vengono in mente in questo momento così a freddo. Il fatto che intanto arrivare la sera alle otto e mezza, uscire da scuola, il tempo che uno ha di decantare, di elaborare tutto ciò che è successo, di discuterlo con i genitori, cenare, quindi cenare lentamente come si dovrebbe fare con tutti i bambini, è già un problema. Significa arrivare tardi, troppo tardi la sera. Ecco perché i primi, il primo problema è il bioritmo che il bambino ha. Secondo dal punto di vista relazionale, stiamo parlando di genitori che lavorano la mattina e che invece il pomeriggio, quando si incontrano con la famiglia i bambini, quando saranno supervisionati dalla famiglia, supervisionati intendo anche in tutte le loro faccende, computer, sapete com'è la situazione anche di social, quindi quando vengono supervisionati, quando vengono controllati, quando vengono aiutati dai genitori nelle loro attività anche scolastiche. Terza, la cosa più importante secondo me è quella relazionale. I bambini vivono, questi bambini avranno sicuramente degli sport, quindi l'attività sportiva viene completamente abbandonata, perché ci sono attività sportive che si fanno solo il pomeriggio. Secondo, devono abbandonare le relazioni che hanno con gli altri compagnetti, i bambini, i ragazzini, non hanno soltanto i compagnetti di scuola e basta, anzi, così spandono le loro amicizie anche al di fuori della scuola ed è anche molto giusto e per cui si aggregano nelle attività sportive, che è la cosa più importante per la crescita psicologica e fisica di un bambino e quindi perdono queste amicizie, quindi finiranno queste relazioni, quando le recupereranno? Non so. E per ultimo anche ricordiamoci che il bambino, il ragazzino, ora non so, anche le fasci di età, il bambino che perde l'attività sportiva, oltre che relazionale, ha anche dei problemi dal punto di vista di crescita, di crescita fisica, non solo emozionale. Ricordiamoci anche una cosa, che questa non è da... la famiglia nella sua complessità viene disgregata, per cui una cosa è il papà turnista che fa due giorni la mattina, due giorni di pomeriggio e due giorni la notte e ne riceve comunque delle conseguenze abbastanza gravi, una cosa è che il bambino invece questa capacità non ce l'ha. Io credo che sia dannoso, credo che bisogna realmente protestare, so che c'è stata protesta anche con il sindaco, ma il sindaco io credo che abbia delle buone motivazioni, ma non sono accettabili. Il sindaco è contrario? È contrario a cosa? Ai doppi turni. È contrario, allora ha maggior ragione che il sindaco sia, sono sicuramente, conosco bene il sindaco e so che non potrebbe essere, altrimenti ci saranno delle forze maggiori, politiche o strutturali che non possono darci altro, ma secondo me tutti insieme con la protesta vera. Grazie alle mamme per protestare perché è giusto che si protesti anche per queste cose, i nostri figli sono avanti a tutto.